Siamo arrivati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione di Italia 7 Il presidente che vi tiene aggiornati sulle attività del Consiglio regionale della Toscana In primo piano è approdata in aula, nell'aula del Consiglio regionale, l'inchiesta CEU Quella relativa allo smaltimento illecito dei rifiuti delle concerie di Santa Croce sull'Arno A tal proposito è intervenuto la governatore Eugenio Gianni in aula La giunta regionale ha approvato una delibera per costituirsi parte offesa nel procedimento penale della Procura della Repubblica di Firenze Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni è intervenuto in Consiglio regionale Sull'inchiesta CEU della direzione distrettuale antimafia relativa allo smaltimento illecito dei rifiuti delle concerie di Santa Croce sull'Arno Gianni ha spiegato che la giunta regionale ha approvato una delibera per costituirsi parte offesa nel procedimento penale della Procura della Repubblica di Firenze Il presidente ha aggiunto poi che, secondo lui, il Consiglio regionale deve eliminare l'emendamento sulle concerie Votato il 26 maggio 2020 nella scorsa legislatura e per cui è indagato il consigliere regionale Andrea Pieroni L'emendamento è inserito nella legge 20 del 2006 La regione toscana si costituirà parte offesa e quindi con determinazione e chiarezza Sarà al lavoro accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati a cui va la nostra piena fiducia Accanto a quello che è il lavoro che viene complessivamente svolto per accertare la correttezza degli atti E dall'altra parte mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo Quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato Visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare Secondo le disposizioni nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale Le propone sovrettese naturalmente a quelle che possono arrivare dal livello regionale Visto che non ha prodotto effetti in un anno, tanto vale approvarlo E lunedì noi faremo partire l'iter attraverso una delibera di giunta Gian è inoltre reso noto che il 19 aprile è stata inviata una lettera al suo capo di gabinetto Ledo Gori Per rimuoverlo dall'incarico Anche Gori è indagato nell'indagine Cheu, così come la sindaca di Santa Croce sull'Arno Giulia De Idda Di valutare la responsabilità politica se c'è e salvaguardare il distretto produttivo di Santa Croce Per tutti e due i motivi noi pensiamo che il sindaco De Idda debba fare un passo indietro Uno perché su lei grava, per quello che abbiamo letto sui giornali, una responsabilità politica marcata Perché? Perché il sindaco è primus inter pares, è il primo cittadino Perché il sindaco è l'ufficiale sanitario del territorio Perché il sindaco è il custode della propria comunità E quando viene a sapere se quello che abbiamo letto sui giornali è vero Che avviene un... vengono sotterrati rifiuti tossici nel proprio territorio Non può tacere, non può stare zitto Secondo, perché un sindaco su cui grava una responsabilità tale Non può salvaguardare e tutelare la propria comunità in un momento di bufera come questo Quindi, come Fratelli d'Italia, chiediamo che il Consiglio regionale Che tutti i partiti vogliano chiedere al sindaco De Idda di fare un passo indietro Di rassegnare le dimissioni e di rasserenare con questa sua mossa La comunità che ha in maniera poco virtuosa rappresentato in questa vicenda Serve una politica più forte, in grado di contrastare le mafie Serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini E serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici Ma mai di farsi condizionare dagli stessi Serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario Questo ho chiesto come monito al Consiglio regionale Bene che la Toscana si sia definita parte offesa A mio avviso è parte offesa anche il Consiglio regionale Semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa Possa aver aiutato qualcuno perché non ha aiutato nessuno E quindi bene, come ho condiviso quello che ha detto il Presidente Gianni Del fatto di eliminare un emendamento Se anche questo può destare un semplice dubbio all'interpretazione di una norma Perché la Toscana è sempre stata molto attenta alle questioni di carattere ambientale I funzionari dell'ARPAT sono funzionari di altissimo valore Che hanno sempre tenuto alta l'astricella dell'attenzione ambientale Lungo il dibattito in aula che ha seguito l'intervento del Governatore Gianni Dibattito che si è chiuso con l'approvazione della risoluzione presentata dal gruppo del Partito Democratico Dopo l'intervento di Gianni è iniziato un lungo dibattito nell'aula Che si è chiuso con l'approvazione della risoluzione presentata dal gruppo del Partito Democratico E che vede primo fermatario il Presidente del gruppo, Vincenzo Ceccarelli Noi abbiamo nella risoluzione che abbiamo depositato ieri sera Quindi a smentire che stamattina ha ricostruito una posizione diversa Tra il Presidente e il gruppo del PD in relazione al superamento di quello che viene definito l'emendamento Che in realtà prevede il ripristino dell'impianto di quella che era la legge 20 precedentemente a quell'intervento Ma il motivo per cui andremo a ripristinare le legge 20 è soprattutto il fatto di non vedersi eventualmente annullare un impianto legislativo Sul quale si basa la possibilità di avere impianti misti come quello Che hanno presupposto un lungo percorso di collaborazione e di investimenti tra pubblico e privato Che hanno coinvolto le istituzioni locali, la Regione, le imprese, il Ministero dell'Ambiente Che ha visto anche ulteriori modifiche e integrazioni Con una rivisitazione che è stata fatta nel marzo del 2019 Che prevede ulteriori milioni di investimenti anche da parte dei privati Per andare sempre verso una sostenibilità maggiore nelle lavorazioni del distretto e nel trattamento delle acque refula Questo è quello che sta facendo il Partito Democratico Noi ci auguriamo di poterlo fare con una vasta unità perché la Toscana è la Toscana di tutti Hanno votato contro la risoluzione i gruppi della Lega e dei Fratelli d'Italia Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario Perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della Toscana Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare Tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi Sul tema ambientale invece dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire Però c'è necessità di agire velocemente Altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale E anche della salute dei nostri cittadini Quindi continueremo a chiedere quelle cose a cui non abbiamo ricevuto risposta all'interno della commissione d'inchiesta Che abbiamo chiesto insieme a tutto il centrodestra Perché riteniamo che portare avanti la strada della legalità, della chiarezza e della correttezza Sia il minimo di quello che si può fare quando si siede all'interno delle istituzioni E il presidente Gianni speriamo che chiarisca meglio rispetto a quello che ha fatto in aula Le sue posizioni nelle prossime ore perché avere un presidente significa anche avere la responsabilità di tutti i cittadini della Toscana E abbiamo chiesto a lui di mettere al centro la sua onorabilità anche per la prosecuzione di questo mandato E purtroppo ad oggi devo dire che le sue risposte probabilmente sono state scritte da un bravo legale ma non certo da un bravo politico Con la tutela da un lato di un territorio importante e di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio Che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL Toscano, 6 mila addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce Sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi E se c'è qualcuno che ha sbagliato, quel qualcuno deve essere allontanato Ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare Noi dobbiamo sostenere quel distretto Dall'altro capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla Regione Toscana Sono state, a detta così, dell'inchiesta inquinate da infiltrazioni mafiosi Ecco perché abbiamo detto sì all'eliminazione di quell'emendamento approvato nella seduta del maggio scorso Che è oggetto di una parte dell'inchiesta E proprio perché una parte dell'inchiesta è oggetto anche ai lavori dell'Aula All'interno dell'Aula noi abbiamo ribadito i nostri concetti La verità processuale sarà quella che arriverà nelle Aule e Tribunale La verità politica invece è che quell'emendamento per noi deve essere assolutamente tolto Quando arriverà in Aula voteremo a favore dell'eliminazione di quell'emendamento Che è parte di oggetto dell'inchiesta della magistratura Respinta la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle Che impegnava la Giunta a rimuovere l'emendamento approvato lo scorso maggio Sono stati approvati all'unanimità due ordini del giorno presentati dai Renegalletti Che impegnano la Giunta ad attivarsi insieme ai presidenti delle commissioni per l'audizione Della Fondazione Caponnetto, della Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura Dell'Associazione Libera contro le mafie Del presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti È gravissimo perché apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini E soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli Di camminare in strade e terreni profondamente inquinati E soprattutto che sono stati oggetto dell'attenzione delle mafie E questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla regione toscana in questi anni E di cui anche il presidente Gianni ha parlato Di fatto allora sono stati inutili E che i dossier che vengono fatti In cui ci denunciano Cosa riesce a fare la criminalità organizzata e le mafie in Toscana Non vengono ascoltati o forse presi sul serio E questa è forse la cosa più grave Noi non riusciamo a dare garanzia ai cittadini Per quello che succede E se davvero dovesse emergere Cosa che mi auguro non accada mai Che ci sono delle relazioni più profonde Tra la politica e mafia o criminalità organizzata Allora esattamente un minuto dopo questa giunta dovrebbe cadere Respinto anche l'ordine del giorno Presentato dal gruppo di Fratelli d'Italia E illustrato in aula da Alessandro Capecchi Che invita l'esegutivo ad adoperarsi per disporre Un'adeguata azione di carotaggio Lungo tutto il tracciato della strada regionale 429 Altro provvedimento bocciato è quello che chiedeva di istituire un fondo I cittadini toscani, il sistema produttivo si aspettano delle risposte chiare Dalla politica e soprattutto dal presidente Gianni Non la lettura come stamani dei buoni propositi E delle campagne di informazione fatte Ma provvedimenti Provvedimenti in ordine alla bonifica dei siti inquinati Provvedimenti relativi a carotaggi Provvedimenti relativi naturalmente alla punizione dei responsabili Quando saranno accertati Sia dal punto di vista penale ci penserà la magistratura Sia però anche dal punto di vista amministrativo E per tale ragione abbiamo ricordato tra le altre cose Che il nostro è un ente soggetto all'obbligo Del piano per l'anticorruzione e la trasparenza amministrativa In questo senso come vicepresidente della commissione ambiente Ho chiesto l'audizione di Arpat in commissione E abbiamo chiesto naturalmente che Arpat dia seguito A un maggiore impegno sul territorio A garanzia dei cittadini per la qualità ambientale E in particolar modo la qualità delle acque Che preoccupa tanto Ed è tutto da Toscana Parlamento Prossimo appuntamento con le informazioni dal Consiglio regionale La prossima settimana Grazie a tutti